ciao a tutti davide salvi fisarmonica a piano o a bottoni in molti mi hanno chiesto informazioni sulle diversità tra i due strumenti e quale fosse lo strumento migliore allora intanto io voglio fare una piccola premessa dicendo che quello che andrò a dire è solo il mio pensiero personale per quella che è la mia esperienza di musicista conoscendo tutti e due i sistemi ma chiaramente la mia specializzazione è la fisarmonica a bottoni che tutti chiamano anche cromatica e si può vedere dai vari video che sono stati caricati su questo canale ovvero il canale davide salvi accordion folk voglio approfittare tra l'altro per ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella così potrete rimanere sempre aggiornati sui nuovi video tanti ragazzi mi chiedono è meglio la fisarmonica a piano o a bottoni tanti in corso di studio decidono di cambiare da un sistema all'altro chiedendosi quale sia meglio io rispondo in questa maniera la fisarmonica sia a pianoforte che a bottoni o cromatica chiamatela come volete come tutti gli strumenti richiedono enormi sacrifici e innumerevoli ore di studio per poterli imparare la fisarmonica a bottoni a mio modesto parere in generale ha qualche vantaggio in più come ad esempio il fatto di costruire con una diteggiatura solo anche più scale ad esempio scala di do uguale a mi bemolle fa diesis la per quello che riguarda naturalmente la prima fila e via discorrendo poi con la seconda e la terza fila con le fisarmoniche poi a cinque file volendo si fa tutto a tal proposito io dico sempre che la fisarmonica a bottoni andrebbe imparata studiando su tre file e poi successivamente scoprire i trucchi soprattutto soprattutto scusate sulla quarta fila io sono comunque un fisarmonicista che fa uso ed abuso della quarta fila in determinate circostanze e uso veramente di rado la quinta altri vantaggi e svantaggi che mi vengono in mente si presentano quando con la fisarmonica a bottoni si va oltre le normali scale ovvero oltre a quelle che la maggior parte dei fisarmonicisti che si dedicano solo alla musica folcloristica si trovano ad affrontare più precisamente al di fuori delle scale maggiori minori armoniche e minore melodiche vantaggi sulla fisarmonica a bottoni ad esempio per quel che riguarda gli arpeggi le scale diminuite dove avremmo molti vantaggi per tutte e due le scale e mi riferisco alle due diminuite e naturalmente anche svantaggi con diteggiature più complicate quando si vanno ad affrontare scale come ad esempio mi viene in mente la locria super locria oppure la scala bebop e alcune scale di cui magari se vi interessa vi fa piacere vi farò un video a parte per quel che riguarda la fisarmonica piano invece non si ha nessuna posizione che si ripete come la fisarmonica a bottoni quindi sicuramente molta più difficoltà in fase di studio ma con il vantaggio che il fisarmonicista piano ha già un'infarinatura anche per approcciarsi al pianoforte in quanto la mano destra è già preparata quindi il vantaggio di poter suonare agevolmente nell'ambito di un'orchestra da ballo anche un pianoforte oppure tastiere a mio modesto parere la fisarmonica bottoni è più rischiosa per il fisarmonicista in quanto per l'appunto rischia di imparare a pappagallo o meglio in maniera meccanica le scale perdendo di vista la linea armonica che deve essere al primo posto perché è l'ossatura portante di ogni discorso musicale quindi io mi trovo a fare la scala di do mi sposto una fila più sotto faccio la scala di mi bemolle nello stesso modo in quel momento lì il fisarmonicista deve pensare al centro tonale di mi bemolle e non farlo uguale pensando come al do cosa che anche io nei primi anni di studio facevo quindi tirando le somme amici fisarmonicisti dico questo perché è quello che penso scegliete lo strumento che più vi piace bottoni o pianoforte non fa differenza magari con quella bottoni vi troverete più agevolati ad eseguire certi brani soprattutto in ambito folcloristico anche perché molti miti del folclore passato a cui tutti ci ispiriamo suonando la fisarmonica bottoni hanno scritto brani che sono più adatti come sistema di diteggiatura a quel tipo di fisarmonica concludendo dico che secondo il mio parere sarebbe molto utile per i fisarmonicisti e bottoni conoscere anche il sistema pianoforte verrà molto utile durante il percorso musicale di ognuno di voi scrivete che cosa ne pensate nei commenti qua sotto e scrivete anche la vostra esperienza di studio sullo strumento è sempre molto utile scambiare opinioni e punti di vista con i colleghi vi saluto a tutti davide salvi ciao ciao